L'ASL Salerno ha aderito al progetto del Comune di Piaggine per la realizzazione di un centro diurno per anziani in piazza Caduti sul Lavoro. Il centro diurno, l'unico nel distretto sanitario 69 Capaccio Rocca d'Aspide, sarà ubicato in locali di proprietà del Comune, che a questo scopo verranno ristrutturati e riqualificati grazie a fondi che saranno erogati dalla Regione Campania nell'ambito della programmazione 2014-2020 relativa ad interventi finalizzati all'introduzione, miglioramento ed espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale. Un progetto che mira a superare il gap infrastrutturale rispetto alle aree non rurali e la scarsa offerta di servizi nel settore sociosanitario.